Che c'è? No, parlami te. Che c'è? Come sapere? Che c'è? Cosa che c'è? Che è successo? Niente. Semplicemente sto... Sti giorni c'ho sto pezzo che mi concentra molto e voglio pensare solo a quello. Cioè è un pezzo, cioè comunque ok, dei pezzi che ti prendono tempo e ti vuoi impegnare, basta dirmelo, ma passare da così a così senza dirmi niente è anche brutto. Sto cercando di direzione nel modo più... Basta dirle le cose. ... ... ... ...